ok ragazzi ci siamo vediamo se riusciamo a prendere un gatto per voi è in velocità anche perché la batteria sta andando a quel paese però ci proviamo gatti in movimento aia qua sono i gatti in movimento ragazzi vi sparo un gatto live e poi chiudo la trasmissione perché va da casa a mangiare ma ve lo prendo in faccia ve lo prendo in faccia i gatti sono impazziti vediamo se ce la facciamo a prendere un gatto live se ce la facciamo potarsi di sì potarsi di no gatto live gatto questo è nato via lasciamo andare per terra ragazzi ne prendo uno al volo se ce la faccio e poi dopo andiamo ma così è perché non sono un pro io è però i colpi di fortuna succedono ciao capogreco la batteria non so quanto dura i pesci sono stati in movimenti questo non ho presi 3 volevo prima che toccasse la batteria riuscire a prendere un altro per fare fai figurati con i followers ho dovuto montare questo guarda roba che fa i riflessi vibrazioni pesissime via adesso voglio prendere uno per i sostenitori di Steve full timer pesca se ce la facciamo chissà vediamo se riusciamo a ganciarne uno poi chiudo perché devo andare a prendere i figli mangiare e per prepararmi per andare al lavoro forza dai e dobbiamo andare a sbattere sul fondo cassio babbana no no ma si sono si sono sminchiati adesso alle 11 e mezza hanno cominciato a dare dei gran becchi solamente sto giro più convinti più giro questo giro molto più convinti perciò cerco di prendere uno in live ragazzi non ha senso proprio vediamo se riusciamo a ganciarne uno per divertirci e far divertire la nostra comunità di pescatori non pro forza ragazzo e dai a mangiata proviamo di là lasciamo andare sul fondo andiamo a cercare da sotto vai mi sento carico mi sento carichissimo forza dai e passiamo andare in fondo andiamo a cercare in fondo gli andiamo a cercare ragazzi sarà 5 metri qua più o meno bisogna farli staccare dal fondo i ragazzi copriamo pian pianino facciamo andare sul fondo poi tiriamo su dovremmo riuscirci comunque ho fatto i video e dopo di posto perché uno dice poi no no tu non hai preso niente non ho preso fatto dei video dopo li metto su sulla pagina di tik tok youtube e anche facebook 3 3 o 4 però fatti video dopo di posto almeno uno l'opposto sono gente non ci credi c'è quando è che volevo beccare un indiretta gli ho presi tutti offline facendo dei video ecco no proviamo così possiamo andare in fondo e tiriamo sul piano in scioltezza si ho capito batteria dice per cento ragazzi abbiate pazienza siamo al full micotone se la faranno i nostri eroi e prendono in diretta minchia che tensione minchia che tensione niente no forse più grosso un chile e mezzo però tirano del testate divertentissime con con la canada spinning con veramente no ma le mangiate l'ho visto tutto il tempo è che non erano convinti adesso ho messo un'artificiale a doppia paletta che fa un sacco di vibrazioni però mi piacerebbe anche prenderne uno in diretta prima che scada la batteria no si diretta cricca si ragazzi full timer pesca ci siamo grande mi dispiace per stamattina ho detto che lo prendevo porco cane guarda che testa te l'avevo detto che lo prendevo guarda che bestia spero che anche voi vedete tutto e siate contenti con me libero subito se stai fermo un attimo pippo fatto si ragazzi e ragazzi vi auguro buona giornata da full timer pesca ciao ragazzi ce l'ho fatta ciao 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 ciao